Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale, siamo qui oggi per parlare di un colpo del Manchester United perché è praticamente fatta, Onana sarà il nuovo portiere del Manchester United Prima di iniziare a trattare l'argomento vi consiglio di iscrivervi al mio canale e di lasciare un bel like perché in questo periodo usciranno un sacco di contenuti, almeno un video al giorno ve lo assicuro sempre e quindi ci divertiremo anche perché è il periodo di calcio a mercato detto questo iniziamo a trattare questo argomento appunto c'è tanto da dire perché dobbiamo dire le cifre, dobbiamo dire i sostituti dobbiamo dire perché l'Inter l'ha fatto e quindi sarà un video abbastanza corposo allora parliamo delle cifre, Onana si trasferisce al Manchester United per 50 milioni di euro più 5 di bonus quindi in totale sarà 55 milioni di euro lo stipendio del giocatore deve essere ancora reso noto ma comunque l'ingaggio sicuramente sarà più alto di quello che percepiva l'Inter allora come sappiamo l'Inter aveva bisogno di vendere per fare un mercato perché finora l'Inter ha preso tutti i colpi a parametro zero tranne ovviamente Fratesi che l'ha preso con i soldi di Brozovic quindi quando l'Inter vende compra qualcuno e vendendo Onana ti sei fatto tutto il mercato di quest'anno praticamente ok? l'Inter ha comprato Turam che l'ha presa a zero Bissek che l'ha presa a pochissimo e poi Fratesi che l'ha presa appunto con i soldi di Brozovic e l'Inter quindi non ha molti soldi da spendere e con questa cessione di Onana sicuramente ti fai il calcio a mercato estivo che resta ok? però perché ora andiamo direttamente al succo perché l'Inter ha venduto Onana oltre ovviamente a guadagnare i soldi ha fatto bene o no? allora secondo me sì vi do subito i miei pareri secondo me sì perché 50 milioni per un portiere sono tanti Onana è un buon portiere ma non credo sia un futuro fenomeno quindi 50 milioni sono veramente tanti per carità bravissimo ottimi riflessi sa giocare molto bene dal basso e con i piedi carismatico tutto quanto però sono 50 milioni e io sono del parere che ok? è un vantaggio avere un portiere molto forte ma non è che è un giocatore di movimento che ti può svoltare la stagione quindi sicuramente è meglio avere un attaccante che ti fa 20-30 gol stagionali che un portiere ottimo secondo me io penso questo perché è vero che una squadra si costruisce dal portiere però è comunque un portiere appunto scusate il gioco di parole però è questo quindi l'Inter ha fatto se non è affatto bene perché si doveva scegliere due cose o ti tieni onana e il mercato l'hai fatto perché hai fatto non hai soldi da spendere fai qualche colpo a zero e ti sistemi un po' alcune lagune che hai magari in mezzo al campo in difesa così prendi un attaccante che costa poco o cose del genere non prendi Lukaku perché il Chelsea vuole almeno come minimo 30 milioni più bonus si parlava anche di 40 milioni di euro e quindi se non vendevi onana non riprendevi Lukaku e hai finito il mercato praticamente vendendo onana 50 milioni più 5 di bonus tu hai soldi per riprendere Lukaku in primis perché l'Inter riprenderà Lukaku con questi soldi l'ha detto anche i dirigenti dell'Inter lo hanno detto che se l'Inter dovesse vendere il primo colpo che andrebbe a prendere sarà Lukaku quindi Lukaku con 90% ritornerà all'Inter 30-40 milioni non si sa bisogna ancora vedere e a seconda di quanto gli chiede il Chelsea a seconda dei soldi che spendi per riportare Lukaku a Milano tu vai a fare un altro colpo in difesa e un altro colpo in porta 1-2 perché si parlava anche di 2 quindi se il Chelsea ti chiede 30 milioni fai 50-30 ti rimangono 20 milioni ok 20 milioni li vai a spendere per per un portiere barra 2 e poi se ti avanzano per un difensore allora i di portieri si parlavano di tre nomi Turbin che è il più giovane ucraino dello Shakhtar ok buona stagione portiere giovane e anche se è giovane appunto ha esperienza in Champions in Europa League ha vinto ha vinto qualche campionato turco campionato ucraino cose del genere e quindi ci potrebbe stare potrebbe essere un colpo appunto simile a quello di Onana dove l'hai preso Onana l'hai presa a zero questo lo prendi a poco magari se fa bene lo fai crescere ci fai una plus valenza vendendolo magari fra 1-2-3 anni ok e poi a fianco a questo portiere appunto giovane si voleva affiancare uno di esperienza i due nomi di portiere di esperienza sono Sommer e Ioriz Ioriz è più Rumos perché non credo se ne andrà dal Tottenham Sommer è più una cosa un po' più concreta Sommer 35 anni sì ha fatto il grande salto un po' in ritardo però ha fatto una buona stagione al Bayern Monaco perché appunto ricordiamo che il Bayern Monaco aveva Neuer infortunato un gravissimo infortunio e quindi ha dovuto prendere Sommer dopo il mondiale per sostituirlo ora il Bayern sta per entrare Neuer vuole prendere un altro portiere quindi Sommer si potrebbe liberare dal Bayern e secondo me Sommer è un ottimo portiere un po' pecca a livello anagrafico di età però un buon portiere soprattutto se lo affianchi a Turbin ok però c'è una cosa che mi fa a restare un po' perplesso perché se tu prendi questi due andano vi ce lo mandi via non lo rinnovi Corretazza se n'è andato quindi tu in un anno con la stagione alle porte dove manca quanto oggi stiamo a 7 di luglio sì 7-8 di luglio e la stagione inizia il 19 agosto 19-20 agosto secondo gli anticipi ecco un mese e mezzo stravolgere un settore dei portieri anche se come ho detto prima il portiere secondo me non fa tutta la differenza come la fa un giocatore di movimento può essere una cosa un po' un po' macchinosa perché tu ti andresti a stravolgere tutto ok cioè tu andresti a mettere di dolari uno tra Sommer e Turbin in panchina appunto uno tra Sommer e Turbin a seconda di che escludi e poi il terzo portiere sarebbe un giovane non mi ricordo il nome che rientra dalla una stagione in serie D o in serie D e lo andresti a mettere al posto di Gordatz anche se ovviamente non giocava non giocherà quindi stravolgere un settore mi sembra una cosa un po' troppo azzardata non la farei quindi o Nana ora se ne va secondo me lo devi prendere uno o Sommer o Turbin secondo me se tu vuoi se tu vuoi collegare il tutto Rinnavi Andanovic metti questo giovane terzo portiere come primo ti prendi Turbin anche se preferisco Sommer ma se l'Inter crede veramente in questo portiere ucraino secondo me se ci crede veramente spendi quei 10 milioni ma pure meno perché lo Shakhtar ovviamente tra guerra tra situazione economica non non rosa e tra crisi te lo può dare anche a meno te lo può dare anche a 5-6-7 milioni per spendere quei soldi mettiamo 10 pensiamo un po' più negativo e te ne rimangono quanto stavamo e te ne rimangono ti rimane qualcosa per prendere magari un difensore ok quindi ando a prendere Turbin ovvio Sommer lo preferivo però fare Sommer 35 anni Andanovic 37 e un giovane portiere che appunto non ha mai giocato in Serie A neanche in Serie B non ha non mi sembra non mi sembra collocato nel modo giusto quindi vai a prendere un giovane portiere fisicamente sta bene secondo portiere Andanovic dove lo fai giocare che ne so in Coppa Italia nei match meno importanti di Serie A gli ultimi partiti di Serie A e poi al terzo portiere che non lo fai mai giocare praticamente andrei a fare questo ok Lukaku ovviamente lo riprendi e poi vai a fare un colpo in difesa perché ricordiamo che l'Inter aveva preso Bissek ha preso 7 milioni di euro pagato appunto dalla squadra danese buon colpo perché è un buon prospetto però tu lo avevi affianchiato con un giocatore come Aspiliqueta perché era tutto fatto ci ho fatto anche il video tutti avevano fatto anche il video di Aspiliqueta perché era tutto fatto lo ha detto Sky lo ha detto i maggiori etni della del giornalismo italiano ma alla fine è saltato tutto perché Aspiliqueta è tornato in patria è andato alla giro di Madrid e quindi l'Inter è rimasta un po' frecata da questo Aspiliqueta era un buon colpo perché tu hai fatto un mini calcio mercato con Bissek e Aspiliqueta molto collocato tra loro perché hai preso Bissek giovane che magari gli facili fare un anno di esperienza a vedere come si gioca nel calcio italiano e nel frattempo titolare mentre vi Aspiliqueta così Bissek lo facevi crescere tranquillamente ora questa cosa non ce l'hai quindi devi andare a prendere un difensore che non costi troppo massimo 7,8,9 barra 10 milioni stop non di più e devi andare a prendere appunto un difensore di esperienza appunto magari anche che abbia 30 31 anni Bissek che ti dà sicurezze un braccetto possibilmente non ovviamente un centrale di difesa perché là ce l'hai e quindi sarebbe questo quindi Onana ti fa fare minimo due colpi e forse il terzo ok ha fatto bene l'Inter ha fatto bene perché ha fatto tutta plus valenza l'ha presa a zero l'ha venduta a 50 più 5 di bonus quindi con appunto questa plus valenza il voto che do a questa vendita si trasforma in un 9 pieno tutto tuo il guadagno è tutto tuo probabilmente andrai a risparmiare anche sull'ingaggio perché Trubin prenderà di meno di Onana ovviamente quindi è tutto a favore dell'Inter non è a favore dell'Inter magari il rendimento che avrà Trubin perché non si sa io non lo conosco affatto questo portiere ormai io l'ho sentito ma non l'ho mai visto giocare quindi non so dare dei giudizi quello che so è che questo portiere qua appunto vuole venire a Milano perché anche dalla foto Instagram che ha messo Onana appunto una sua foto con la maglia dell'Inter Trubin ha messo tipo un emoji tipo per dire staremo a guardare quello che succederà insomma lui vuole venire a Milano quindi sicuramente c'è entusiasmo da parte di un giocatore come ce l'aspettavamo di venire appunto in questa piazza dove sicuramente un po' di pressione ce l'hai ragazzi stavo leggendo al volo addirittura sono cambiate le offerte 5 milioni in più quindi è il 55 più 5 di bonus proprio notizie degli ultimi minuti mettiamo bene la telecamera se no qua cade quindi hanno vabbè no hanno cambiato evidentemente le cifre di ieri erano un po' leggermente sbagliate oggi l'hanno ricorretta è 55 più 5 di bonus quindi sicuramente perché quei 5 milioni ti lasciano margine per fare il colpo in difesa ragazzi ho espresso il mio parere vi ho detto le cifre di Onana vi ho detto il mio parere ho dato il mio voto vi ho detto anche il mercato che farà l'Inter quasi sicuramente tre colpi credo minima minimo scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa vendita se l'avreste tenuto o se l'avreste appunto venduto e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video a un prossimo video